Ciao a tutti da Max Calderan, l'esploratore desertico estremo, l'uomo che attraversa i deserti in totale solitudine senza mai fermarsi. Cosa ho imparato dalle mie imprese? Sicuramente che non c'è diversità tra le persone. Calpestiamo tutti la stessa terra, la stessa terra che ci ha dato l'origine, la natura. Solo condizionamenti di tipo culturale, politico, di pensiero, di persone che ci stanno vicino hanno creato delle differenze e da queste differenze si sono generate delle situazioni ahimè a volte molto catastrofiche, basta pensare ad esempio alle guerre o al razzismo e via dicendo. La più grande tra le esperienze fatte tra il Medio Oriente e tutta la fascia nordafricana che conosco molto bene è stata probabilmente quella nei territori israeliano-palestinesi quando partì da ramalla per andare attraverso Gerusalemme e su in cima fino al monte Sinai. Ho avuto modo di toccare con mano quello che a volte una gestione politica di alcune situazioni può creare in quello che dovrebbe essere una vicinanza tra le persone. Non può essere un muro, non può essere una rete che divide l'amore tra due persone che si amano. Non può esserci crescita, non può esserci evoluzione se dalla differenza tra le persone non siamo capaci di accogliere queste differenze e fare qualcosa per poter migliorare dalle conoscenze di reciproche esperienze, di poter fare qualcosa per migliorare non solo la nostra vita ma la vita della nostra società, del nostro futuro, del nostro pianeta, per lasciare qualcosa ai nostri figli che vada oltre le barriere di quello che sono pensieri e condizionamenti. Io posso semplicemente dire che la mutua conoscenza, la reciproca conoscenza tra persone attraverso la comprensione e il rispetto delle differenze sarà una delle chiavi di successo affinché possiamo raggiungere tutti una felicità che noi meritiamo. Grazie a tutti.